Io ho sempre creduto che le parole fossero un modo per comunicare quello che proviamo, quello che pensiamo, ma dopo che scopri che anche uno dei miei migliori amici mi aveva raccontato per anni un sacco di bugie, o meglio dire di balle, decisi di non credere più alle parole delle persone che sanno solo ingannare, ferire, fare del male, illudere. Così un giorno, trovandomi piegato come questo albero dalle avvertità, decisi di iniziare a credere solo a ciò che vedo e alzando gli occhi verso il cielo, guardai il sole e sapendo che nessun uomo può manipolarlo a suo piacere, iniziai a prenderlo come punto di riferimento per credere solo a quello che vedo e cercare così il significato della vita, di capire il nostro esistere, di capire soprattutto che si può vivere dicendo la verità. E così da quel giorno considerare il sole il mio primo vero e grande amico.